Ok ragazzi, voglio partire anche con il gameplay numero 23 di Tales of Xiglia perché oggi voglio giocare, voglio giocare a bestia, quindi vai si parte, il gameplay numero 23, si d'accordo Sonic? Sonic ragazzi non è d'accordo però a me non interessa, vai, il gameplay numero 23 di Tales of Xiglia, buon divertimento a tutti e si parte, yeah! Vai ragazzi, si parte subito con il gameplay 23 di Tales of Xiglia in compagnia del vostro DiabloTex, vi faccio vedere un po' come ho potenziato i personaggi, guardate un po' lì, Livello 44, poi la sfera Lilium qui, guardate qua ragazzi La sfera 1 è completata in pratica, no? Mi ha sbloccato anche la sfera 2 da potenziale, vabbè Andiamo avanti nel gameplay, ci sentiremo dopo This place looks different from the rest of the hunting grounds Footprints and still fresh by the look of them Ok ragazzi, allora vediamo un po' la strada da fare, quale è? Allora, vabbè, partiamo qui dal lato sinistro perché tanto una strada vale l'altra perché non conosco la zona Vabbè, qualche incontro ragazzi è d'obbligo farlo Uno per vedere un po' i nemici ma anche per entrare alla porta e ero obbligato a combattere Vabbè, è durato poco l'incontro ragazzi, quindi va bene così Ecco qua il forziere, prendiamo il forziere Grande diablo Qui cosa c'è? C'è qualcosa da prendere, qui vediamo un po', vediamo un po' Ok Vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere perché non saprei, eh Non saprei Vediamo, vediamo Ah ah Grande diablo, grande Ecco un forziere da prendere anche qui, prendiamolo subito Ecco il microfono va Ok, vediamo un po' ragazzi di entrare anche in questa porta Vediamo cosa ci aspetta di buono Di buono, non c'è nulla? Ah ok, c'è 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 la strada chiusa, c'è Ah ok Un incontro che adesso lo evito ragazzi Per andare un po' più veloce nel gameplay Perfetto, tanto non c'è nulla da prendere Quindi va bene così Vai, allora vediamo un po' Facciamoci un giro qui giù Facciamoci un giro qua giù Qua giù Forziere Bene così Ok Qui la strada ora è chiusa Quindi credo che Si deve andare sul ponte Sul ponte Bisogna andare Ok Vediamo un po' Si la strada è questa Si può andare alla grande Si può andare alla grande Vai di qua e di là Milla 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 Yeah Ok Evito anche questo incontro ragazzi Giusto per Per fare subito il gameplay No? Tanto qualche incontro Bisogna Bisogna farlo Durante la strada Qualche nemico ci verrà addosso Sicuramente Quindi Se posso velocizzare un po' Io velocizzo Vai Ecco vai Scampiamocela anche da questo Tacco di patate Ok Ok Qui non si può andare Quindi Quindi Ok 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 Si scende qua Si scende qua Per forza Qui c'è qualcosa da prendere No Non c'è nulla da prendere Ok Qui la strada Vabbè Incontro Da fare L'avevo detto Io che qualcuno Era inevitabile Vabbè dai Facciamo subito Facciamo subito La grande Yeah Vai Brado Vai Perfetto Perfetto Allora Vado alla prima porta qui Vado qui Vediamo cosa c'è Ecco Evitiamo qua Il contadino Col secchio Non so Cosa ci sia Dentro il secchio Sembrava un secchio Che portava lì Vabbè Andiamo ora di qua Siamo obbligati Ad andare di qua Facciamo il giro Ragazzi Facciamo il giro Dai un incontro Qui dentro Lo faccio Dai un incontro Qui Vai Ogni tanto Qualche Ehi tartarughe giganti Vediamo quanti punti Danno di esperienza Queste Vediamo un po' Vai Vai così Vai brado Vai Vediamo un po' Queste tartarughe Sì sì Beh Pochi punti Esperienza Pochi punti Vabbè Vabbè Allora Siamo riusciti Da questa parte Adesso Ok Quindi Bisogna È un casino Ragazzi È un po' Intrecciata La strada Ma In questo piccolo Frangente Ma neanche roba Di Niente di impegnativo Vai Andiamo sul ponte Secondo ponte Secondo ponte Via Allora Ora qui Qui c'è un forziere Da prendere Quindi L'incontro Bisogna farlo L'incontro Va fatto Ragazzi Va fatto Vai così Vai così Grande Ok Vai Forziere Da prendere Ok Forziere Preso Ora Entriamo A questa porta Vediamo cosa c'è Strada chiusa Ragazzi Strada chiusa Ok La strada è chiusa Quindi Bisogna Proseguire Per forza Qui Vai 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 Raccogli Tutto quello che luccica Milla Che gli oggetti Servono Facciamo Il giro lungo Qui Che magari C'è qualcosa Ecco Un sacco Di patate Contenente 1800 Gald Che non guastano Mai Non guastano Mai Un forziere E lì Chi c'è Lì Alvin tipo and that's all he's been saying since so he really was just a machine all along a toy toy yeah a stuffed animal design to move and talk by itself he wasn't a toy he was my friend Alvin what happened to the Exodus agents I killed one of them the other gave me the slip good work what about Tepo if we can get back whatever they pulled out of him maybe he'll go back to normal when did the Exodus agent leave ages ago then the trail is cold trying to retrieve whatever they took will be a waste of time we need to get moving but couldn't you do both can you help if you wish to search for Exodus I won't stop you but that means we have to part ways very well let's get back to the city ok ragazzi vediamo la missione di rigidi vabbè bisogna tornare dietro in pratica e vabbè torneremo dietro allora torneremo dietro ragazzi però non prima di aver preso un sacco di patate ragazzi è il sacco di patate ci vuole ci vuole vediamo un po' ora dobbiamo ritrovare la strada per tornare dietro e vi dico subito questa cosa ecco sì vabbè voi sapete io con le strade non tanto ci vado d'accordo per trovarle qui come si prende questo ora questo oggetto qua e ragazzi il sir diablo qui trova tutto trova ok bisogna andare qui si bisogna andare qui tranquilli ragazzi che per combattere c'è tempo tanto dovremmo a questo punto credo che devo attraversare anche la foresta per tornare dietro ne sono certo vabbè torneremo intanto dietro per andare alla città se ritrovo la strada ragazzi perché non è detto che la ritrovo vai vai diablo vai ecco un po' vediamo ok ok e lice get back heal you dogs heal my apologies if my pets frightened you i had to sic them on some poachers Zhao? Cosa ti ha portato qui? Vedo che ti è finalmente tornato a questo posto, figlio. Tu lo ricordi, non ti? Cosa sta parlando? Questo è il labo dove la piccola moglie era riuscita. Il laboratorio è stato abbandonato per qualche tempo, da che abbiamo avuto l'intruder. Io credo che l'intruder era tu, Alvin? Cosa intuizione, eh? C'era investigazione dei boosters che stanno facendo qui. Cosa? Quindi è tu? Cosa è un booster? Un gadget che sviluppato da Azul per riuscita la mani generata da la mani lobe. Elise sta portando una stessa, Tipo. Il spud è appena un booster di terzo generato. Il è un booster. Quindi... Tu sei un gadget, Tipo? Tu ti chiamai tipo Tipo. Plea di metti. Il booster è capito di capito. Il ha capito di capito di capito di capito. Il ha capito di capito di capito di capito. Il ha capito di capito di capito di capito. Quindi tutto questo tempo Tipo è stato detto che era sull'istia? che non è vero, Tipo era parlato solo Tipo, tu è un'acchina, ma è ancora mio amore, certo? Non, io sono un'acchina, Elise No, tu è un'acchina Non, tu è un'acchina Io sono un'acchina che mi ha detto che fa' la sua pensione Elyse, mi sono scusate. Diciamo, big guy. Onde sono i miei e i miei e i miei e i miei? Sì. Sì. Sì non sono ancora con noi. Cosa? Quando sei solo 4 anni, i miei amici sono attaccati da un bandit e scusati. Elyse, aspettate! Elyse è stato in questo laboratorio? Sì, è stata portata qui. Sì, è stata portata qui. Sì, c'era questa ragazza, che si prenderà i miei e le prenderà in il laboratorio. Cosa era il nome? Non credo sia Isla Sì, è tutto Isla Un poacher di bambini, potrebbe dire Non ho il diritto di te dire questo Ma, per favore, non lasciare il tuo bambino Non dovrebbe essere soli ancora Ok ragazzi, si prosegue per la nostra strada Che ormai mi sono perso Ah no, ok, ok Sul ponte credo, sul ponte bisogna andare Ecco, per una volta non mi sono perso ragazzi Per una volta, segui Elisè e Leila E dove stanno? Me ne sono perse? Vediamo un po' Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Ok ragazzi, eccomi qua Scusate, è andato ad aprire un attimo la porta Possiamo continuare nel gameplay Vediamo un po', torniamo dietro allora Ok Vediamo un po' Vediamo un po' la strada qui dov'è Ok Devo ricapitolare un attimo Perfetto, perfetto Vai Torniamo dietro ragazzacci Torniamo dietro In città Eh 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 Allora Xandu Yeah Vediamo un po' dov'è Eh eh Dobbiamo tornare tutto dietro ragazzi Quindi sai che cosa faccio a questo punto? Eh eh A questo punto io farei che 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 Vabbè Non si combatte Magari faremo un incontro solo perché Eh Giusto per Non rendere le cose monotone diciamo Ma Sono due aree da passare Quindi vediamo un po', vediamo un po' Ci ho passato la nottata in questo In quest'area eh Per fare il grinding Quindi Non è che ho tanta voglia di combattere ancora con questi mostri Ma voglio qualcuno un po' più potente Eh sì Eh sì Vai diablo Vai Ce la farò ragazzi? Ce la farò? Eh sì Dai Dai che ce la posso fare Dai Ecco il vostro brado che va E va alla grande Ok Allora la strada è qui Ok Siamo arrivati quasi ragazzi Faremo un incontro giusto per Prima di arrivare a destinazione Promesso Promesso Vai Allora si combatte contro questa pianta Va Vai così vai Eccomi Eccomi Yeah Guardate che bordello ragazzi Vabbè Neanche me li vedo questi mostri Neanche me li vedo Neanche me li vedo Vai ragazzi siamo tornati in città Il Un'altro 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 Non è stato per te volte Noi abbiamo parlato con Zhao Sì La scuola che ti segui i bambini A le campi Iniziali Sono per te È un'attività Ma siamo arrivati In una parte I'm so sorry you all got dragged into this What a horrible coincidence Isla, you can drop the act W-what do you mean? I really was worried about you Why would I lie about that? Jude, what are you saying? I'm saying it was no coincidence we met Isla Remember what those locals told us When the bell rang for the finals? At tournament time, any outsiders Are either combatants or spectators Right, I recall what she said When she came to help us You folks don't look like You're from around here What brings you to town? No one here would need to ask that Not at tournament time You were ordered to make contact with us By Exodus Isla, that's not true, is it? They said you'd never find out They promised But I had no choice in the matter They blackmailed you, didn't they? They know your secret Your former occupation They asked Wouldn't it be a shame if Jürgen found out? What happened to the girl breaks my heart But I had no choice back then either Please, don't tell Jürgen He doesn't know How could I tell him? He's a good man But it's all in the past, isn't it? Your fiancé should know these things You're a woman How can you not understand this? I'm damaged goods If he found out about my past He'd leave me I finally found happiness But please Forgive me I just don't care anymore Elise is all alone now No matter what you do We better try to find Jürgen We need to talk to him about the wyverns What's wrong, kid? Isla said there was nothing she could do to make it up to Elise But did she actually try? Is there really nothing she can do? Isla is the only one who can answer that question Ok, guys Vediamo la nostra missione Trova Jürgen Però Jürgen, ragazzi Lo troveremo al prossimo gameplay Perché il gameplay numero 23 di Tales of Xilia Purtroppo si conclude qui Quindi un saluto al vostro DiabloTex E ciao a tutti Ok, ragazzi Eccomi qua Oggi corro con Tales of Xilia Una voglia pazza di giocare Quindi Passo ai saluti Del finale Di gameplay numero 23 Di Tales of Xilia Spero che il gioco vi sta piacendo Perché, ragazzi La storia più si va avanti È più e bella, ragazzi Bella, ma bella, bella Veramente è un gioco Che merita l'acquisto E va tenuto da collezione lì Quindi Passo subito ai saluti Del gameplay numero 23 Inizio con il salutare Arcate Best Black Boys Peppe Barone Poi c'è i giochi di lacca I giochi di lacca, ragazzi Poi c'è 0-1 modulo Pitta Jet E Roy Gabriel 28 Quindi va bene così Per quanto riguarda i saluti E niente, ragazzi Ci sentiamo per i prossimi gameplay Io adesso corro Che devo registrare ancora Quindi Ciao dal vostro Diabotex E mi raccomando Con i like sotto al video Ciao Black and roll Black and roll Black and roll Black and roll